Tempo d'estate, tempo d'attesa e di grande lavoro per ogni compagine del mondo calcio. Anche il Gabbiano pensa al prossimo campionato e agli importanti obiettivi da traguardare. Dopo l'ottima stagione appena trascorsa, fatta di risultati entusiasmanti e ottime prestazioni in campo, la compagine bianco-verde è pronta a vivere un nuovo campionato da protagonista. Una conferenza stampa, quella voluta a Monopoli, per evidenziare quanto si sta facendo per continuare a volare alto. Di ripetere il campionato appena concluso, quanto meno. Cercheremo di fare la stessa bella figura e possibilmente qualificarci per il pre-off. Un progetto ambizioso, quello del Monopoli Calcio, che si arricchisce di nuovi imprenditori che con entusiasmo hanno sposato l'idea che vede al fianco dello sport il motore economico del territorio. Tra questi Francesco Caliprico, del gruppo Commerce Creation, e Scipione Tagliente, titolare del gruppo Graffio. Senza dimenticare l'apertura espressa dall'amministrazione comunale di Monopoli ed acquisire quote societarie. Creare sempre un gruppo più allargato e più coeso. Questo era già il nostro obiettivo iniziale. È chiaro che tutto subito non si può mai ottenere, però stiamo notando già che quello che abbiamo dimostrato viene valutato positivamente, per cui i nuovi soci sono facilitati ad intervenire e sono quasi più invogliati, proprio perché abbiamo già dimostrato quello che siamo, che cosa vogliamo. Garantire così un rinato attaccamento alla maglia, sospinti dalla voglia di crescere e traguardare sempre più importanti obiettivi, supportati dalla presenza preziosa dei tifosi. Praticamente i tifosi non c'è nulla, sono meravigliosi. Ci aspettiamo la conferma della loro caratteristica, cioè la meravigliosità. Riconfermata quindi la voglia di fare bene e di volare alto, accompagnati dal trainer Claudio De Luca, tra i protagonisti della stagione appena trascorsa. Io con questa società, con questa città e con questa squadra, quindi con tutto quello che sta attorno, penso di aver fatto una crescita anche personale, perché essere arrivato dopo i cinque anni a Castellana, essere arrivato a Monopoli e al primo anno aver vinto un campionato d'eccellenza all'età di 30 anni, io spero quindi per il terzo anno consecutivo di ricambiare anche la fiducia da parte della società per ottenere dei risultati come quelli ottenuti in questi due anni.